Il sogno del Cuomo Corsaro all'Adriatico di Pescara si è infranto a tre minuti dalla fine. È stato Pagano ad evitare il naufragio casalingo dell'equipaggio di Galeone che era stato trafitto a quattro minuti dal riposo dal brasiliano Milton. Nella prima parte della gara il Pescara ha cercato di sbloccare il risultato ma non ha avuto la necessaria lucidità favorendo la difesa avversaria che è riuscita sempre a salvarsi. Alla mezz'ora gli abruzzesi hanno avuto una grossa opportunità con Pagano che ha però clamorosamente mancato la facile occasione. Il Cuomo ha retto bene all'urto e si è rivelato implacabile in contropiede. Al quarantunesimo minuto il brasiliano Milton al termine di una stupenda azione è riuscito a portarsi da solo davanti a Gatta trafiggendolo 1 a 0. Il Pescara ha accusato il colpo e sino al riposo non è riuscito ad imbastire una valida controoffensiva uscendo dal campo tra i fischi. Nella ripresa Pescara subito in avanti alla ricerca del pareggio mentre il Cuomo si difende come può. Al diciassettesimo minuto la squadra di casa colpisce un palo con Ferretti. Due minuti più tardi è lo stesso Ferretti a fornire una palla d'oro a Tita che sbaglia la conclusione. Il meritato pareggio ha tre minuti dalla conclusione. Pagano sfrutta un errore di Macoppi ed inzacca. 1 a 1. E i comaschi chiedono in vano l'annullamento del gol per fuorigioco. Non è giusto! Non è giusto!